Musica Occhio alla notizia, in studio, Marco Ferri Vediamo in anteprima le notizie del nostro sommario Le marche da oggi in zona gialla Riaprono bar e ristoranti, ma la situazione rimane nera È innegabile che ci sia una perdita di fatturato E di ulteriori indebitamenti Cosa che è impensabile, visto che abbiamo i conti tutti in rosso Anche a Pesaro, ristoratori contenti, ma preoccupati Facciamo, riapriamo, però per noi è una difficoltà grossa In quanto aprendo normalmente le 18 I nostri clienti non si possono neanche avvicinare A Fano preoccupa la chiusura definitiva dei negozi Girando per le vie del centro storico Ne abbiamo contati 22 di locali vuoti E la situazione non è destinata a migliorare Anche quest'anno niente benedizioni pasquali Casa per casa Le diocesi marchigiane stanno programmando le linee guida Per vivere la seconda quaresima in tempo di Covid Tra poco in diretta su Fano TV Primo cittadino con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchietto Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Oggi primo giorno in zona gialla per le Marche Si è tornati a bere un caffè al bar A fare colazione Insomma a mangiare seduti anche al ristorante Una boccata d'ossigeno Senz'altro per ristoratori Ma c'è anche chi ha deciso per ora di non riaprire Letizia Marchionni Già il sentore tra ieri e sabato e oggi È molto alto il livello di coloro che non apriranno E qualcuno deciderà di aprire il weekend Una ripartenza necessaria Quella dei ristoratori marchigiani Che da oggi con il ritorno della zona gialla Hanno riaperto, seppur non tutti I battenti dei propri locali Fino alle 18 Nonostante il cambio di colore L'allentamento delle restrizioni Siano stati per tanti una boccata d'aria Dopo le dure settimane di sopravvivenza Con solo asporto e domicilio C'è anche chi ha comunque deciso Almeno per ora di rimanere chiuso Si tratta di una ripresa zoppata Afferma Lorenzo Vedovi Portavoce di Ristor Italia Abbiamo chiesto di ripartire con la zona gialla Rispettando tutti i protocolli E proponendo di applicare ulteriori restrizioni Magari togliendo qualche coperto Ma per poter riaprire fino alle 22 Impensabile poter riaprire con solo il lavoro di pranzo Che è un 20%, un 15, un 30 a seconda delle aziende Quindi è innegabile che ci sia una perdita di fatturato E di ulteriori indebitamenti Cosa che è impensabile Visto che abbiamo i conti tutti in rosso Questa divulgazione mediatica nazionale Dove dicono L'oreca, la ristorazione Hanno preso 137, 140 miliardi di euro di ristori C'è una cosa indegna E quasi passibile di querela Perché noi abbiamo preso Sieno il 23, 24% di quella cifra Il resto è andata in cassa integrazione E molte cassa integrazione non sono neanche arrivate A molti dipendenti Tra l'altro noi abbiamo di nuovo richiuso E ci aveva promesso il governo ristori Il quale i ristori non arrivano Forse a marzo-aprile Ma a marzo-aprile molti arrivano a dei ristori Siamo già chiusi È una partenza, diciamo, zoppa Per farci capire A pranzo qui a Biricocco faremo sempre un servizio di messa aziendale Come già abbiamo fatto anche nel periodo che era arancione A Locanda e la Cerada abbiamo chiudo il 23 Non l'abbiamo più aperto Perché proprio essendo leggermente fuori mano Il comune è anche piccolo Quindi c'erano anche le ristrettezze del comune Non valeva proprio la pena Calcolare quelle 30-40 pizze che magari uno poteva fare Non valeva la pena tenere aperto Tra accendere macchinari, personale, una cosa e l'altra Era soltanto perdere ulteriori soldi Più di quelli che stiamo perdendo Per chi invece ha deciso di riaprire La ripartenza è stata un sospiro di sollievo Ma resta il timore di un nuovo ritorno in zona arancione Tanti sono i fanesi che hanno subito approfittato della zona gialla Ne approfittiamo perché non si sa Magari che un domani diventeremo di un altro colore Quindi ne approfittiamo oggi Stiamo tornando un po' alla normalità Almeno la sensazione è questa Ecco un pochettino È stato un momento veramente piacevole Riuscire a finalmente a stare tra amiche A prendersi un caffè al tavolo Guarda, l'amarezza che si provava a dare un servizio da sporto E vedevi la gente fuori magari che mangiava la pizzetta O beveva È una cosa molto amara Un'amarezza tremenda E speriamo un giorno di essere bianchi Perché c'è anche questo colore, c'è il bianco Uno ci spera sempre Aspettavamo tutti questo momento Quando riapri le porte Che rivedi tutto il tuo locale attivo Il personale Ovvio che siamo tutti contenti L'appello che faccio alla mia clientela È quello di aiutarci a rimanere in zona gialla Nel senso Ci si siede Una volta finito di consumare Si mette la mascherina E speriamo che le cose continuino Anche se io dubito fortemente Anche a Pesaro i baristi, i ristoratori Hanno tirato un sospiro di sollievo Anche se rimanere aperti soltanto a pranzo E quindi chiudere al 18 non basta Angelica Panzieri Oggi quasi tutta l'Italia è tornata in zona gialla E così anche le marche A Pesaro siamo andati a vedere Come hanno ripreso il lavoro baristi e ristoratori La voglia di ripartire Di tornare alla normalità Da parte di ristoratori e baristi Era tanta Ed oggi nel primo giorno di rientro In zona gialla per le marche Gli operatori del settore Non si sono fatti trovare impreparati Insomma un lunedì di ripartenza Tra sorrisi e anche qualche preoccupazione Per i mancati incassi dei mesi precedenti Ma nel complesso Questo primo giorno di lavoro è andato bene Serrante su per i bar Che dalle prime ore del mattino Hanno potuto servire brioche e cappuccino Al tavolo Idem per i ristoranti Che oltre ad essere ripartiti oggi Hanno già avuto prenotazioni Per la settimana Puntiamo sulle nostre risorse E niente Ci auguriamo che sia una ripartenza buona per tutti Non solo per la mia attività Ma per tutte le attività Sia del centro storico Che di tutta la città Perché più lavoriamo E più siamo tutti felici Dalle sette alle otte e mezza Si è visto qualcuno Poi c'è stato un po' di calma Visto che comunque sia le attività Lavorano con persone Che vanno a lavorare Quindi diciamo che nella prima parte Della mattinata sì Poi no Adesso ci aspettiamo qualcosina a pranzo E poi Vediamo un po' per quanto riguarda Il fine settimana Come si evolverà il tutto È stato bellissimo Perché sono degli amici Abito vicino al piazza Olivieri Vengo spesso qua Contentissimo Mi leggo il giornale Passo un paio d'ore Con rientro in zona gialla Ci si potrà spostare anche al di fuori Del proprio comune Quindi all'interno della propria regione Rispettando pur sempre il coprifuoco Confermato per le 22 Al ristorante Resta valida la regola dei mesi precedenti Ai tavoli ci si potrà sedere Al massimo in quattro Salvo nuclei familiari Più numerosi Poi alle 18 Tutti a casa Riapriamo Per aperitivi Per pranzi Dal primo pomeriggio Lavorando su una componente nuova Che abbiamo dovuto sviluppare Per quanto riguarda l'asporto E che la portiamo anche adesso A tavola dei nostri clienti Lo facciamo Riapriamo Però per noi è una difficoltà grossa In quanto Aprendono normalmente le 18 I nostri clienti Non si possono neanche avvicinare Insomma Quell'ora lì noi chiudiamo Quindi La voglia non ci manca L'inventiva pure Siamo sempre dietro A inventare qualcosa di nuovo Per poter rimanere sul settore Se no qui È una morte lenta Siamo ovviamente Insomma contenti Di tornare a fare Il lavoro Che ci appassiona E che amiamo Che è quello appunto Di accogliere le persone E farlo nel migliore dei modi Appena è arrivata la notizia Della zona gialla In molti Soprattutto i nostri clienti Più affezionati Si sono informati Ecco Su quelle che erano Gli orari Quindi Già oggi abbiamo Qualche tavolino Insomma E poi ci sono i furbetti Questa fine settimana La polizia Ne ha pizzicati 14 Tra loro C'era anche Un titolare Il titolare Di un esercizio Commerciale Che a causa Del mancato rispetto Delle norme Anticontagio È stato appunto Multato La prefettura Tra l'altro Di Pese Urbino Fa sapere Che verranno notificate Prossimamente 370 ordinanze Ingiuntive Di pagamento Ai trasgressori Che non hanno Pagato la multa O che hanno presentato Scritti Difensivi E Come avete sentito Dai titoli Purtroppo Nel centro storico Di Fano Sono sempre più Numerosi I titolari Di negozi Di esercizi Commerciali Che hanno deciso Di chiudere Per sempre I battenti Simona Zonghetti Sempre più Saracineschi Abbassate Nel centro storico Di Fano La moria Di negozi Continua Imperterrite Sono anni Ormai Che il fenomeno Continua A dare il colpo Di grazie Alla pandemia Che non ha risparmiato Nessuno E ora le attività Chiudono una Dietro l'altra Sia le catene Commerciali Che le piccole Botteghe Considerate da sempre Il motore Di ogni città Questa mattina Passeggiando Nelle vie principali Abbiamo contato 29 negozi Chiusi In quasi tutti Un cartello affisso Alla vetrina O alla porta D'ingresso Con vendesi O affittasi E anche in piazza 20 settembre Ci sono due Negozi chiusi Il primo Quello che ospitava La Vodafone Che si trova Di fronte La fontana L'altro Quello che vedete Alle mie spalle C'è ancora un cartello Con su scritto Ultimi giorni Tutto a 20 euro E poi sabato scorso È stata chiusa Anche questa attività Vuoi per le catene Internazionali Per i grandi centri Commerciali O le vendite online Fatto sta Che più passa il tempo E più la crisi Si fa sentire Oggi poi si aggiunge Il problema Dell'incertezza Del lavoro E delle aperture Legate all'andamento Dell'emergenza sanitaria Motivo per il quale Sia le vendite natalizie Che i saldi invernali Non hanno portato Grossi benefici Alle attività A contribuire Anche i divieti Di spostamento Gli imprenditori Chiedono quindi Più ristori Da parte dello Stato E lanciano appelli Ai cittadini Affinché acquistino locale Ma c'è anche chi Come i ristoratori Chiede al comune Di riproporre Il provvedimento Per l'occupazione Del suolo pubblico E l'azzeramento Del canone TOSAP Un'azione che ha limitato Le pesanti perdite Di fatturato E che ha aiutato La categoria Nella scorsa estate Anche per rispettare Più facilmente Le tante norme Anticontagio Intanto Se da una parte C'è chi molla E chiude Attività storiche O decennali Dall'altra C'è chi apre Nonostante le difficoltà Come gli affitti elevati Che spesso tagliano Le gambe Agli imprenditori Così A scendere in campo A supporto del commercio È stata l'amministrazione Comunale Che ha pensato Di mantenere attiva La filodiffusione Per tutto il mese Mentre dal 10 febbraio Fino a Pasqua Verrà installata Un'illuminazione scenica Con un cielo stellato Sopra la città Inoltre Da oggi parte Racconta Fano Un concorso Dedicato a cittadini Turisti Che possono pubblicare Foto e video Con questi hashtag Su Facebook O Instagram Nelle immagini Dovranno esserci Prodotti artigianali O enogastronomici Della tradizione locale Che richiamino L'identità Della città Oppure acquisti Nelle attività economiche Di qualsiasi prodotto Ma con la presenza Di un tratto distintivo Di Fano Vinceranno Quelle che raggiungeranno Il maggior punteggio Derivato dalla somma Di mi piace Numero di commenti E di condivisioni Il concorso Terminerà domenica 4 aprile Ed ora La pagina Più triste Del covid Come tutte le sere Il bollettino Di chi non ce l'ha fatta Otto decessi Registrati Nelle ultime 24 ore Nelle marche Tra le vittime C'è anche un pesarese Di 72 anni Resta alto Anche il numero Dei positivi In relazione Al totale Dei tamponi Eseguiti Sono 189 I contagiati Rilevate nelle ultime 24 ore Di cui 19 Nella provincia Di Pesaro Urbino Inoltre Negli ospedali Della regione Ci sono 6 ricoveri In più Ma tutti Nei reparti Non intensivi La cronaca La polizia Ha arrestato Due ragazzi Di 18 E 19 anni Fermati a bordo Di un'auto Lungo via Flaminia Nei pressi Del colle Ardizio A Pesaro I due Perquisiti dai militari Perché in evidente Stato di agitazione Sono stati trovati In possesso Di un borsone Contenente Oltre 2 chili Di marijuana Le perquisizioni Domiciliari Hanno poi Permesso Il ritrovamento Di un bilancino Elettronico E altri involucri Con tracce Di stupefacente A Pesaro Invece I militari Hanno fermato E perquisito Un uomo Il quale Dopo i successivi Controlli Fatti in ospedale È risultato Avere ingoiato 22 ovuli Di eroina Per un totale Di 230 grammi 21 di questi Sono stati rimossi Mentre il 22esimo Potrebbe essersi Rotto Con tutte le pericolose Conseguenze del caso L'uomo È ricoverato In ospedale E piantonato Che poi è stato E poi è stato Arrestato Questa mattina L'assessore regionale Alla sanità Filippo Saltamartini Ha partecipato Alla riunione Della conferenza Stato-Regioni Per il piano Di fornitura Dei vaccini Durante la riunione Si è tornati a parlare Della possibilità Di produrli Anche in Italia L'assessore Ha richiesto L'avvio Della contrattazione nazionale Con i medici Di medicina generale Per somministrare I vaccini A casa Considerando I 122.000 Anziani Con più di 80 anni Che vivono Nelle Marche Infine Saltamartini Ha rinnovato La richiesta Per l'acquisto Come ha fatto La Germania Degli anticorpi Monoclonali Per le cure Al covid-19 La polizia Stradale Di Fano Ha sanzionato Un uomo Di nazionalità Rumena Per aver introdotto In Italia Due cuccioli Di cane Probabilmente Di razza Scizio E maltese Privi di microchip E passaporto Sanitario Con aggravante Dell'età inferiore A 12 settimane L'uomo Dovrà pagare Una multa Di 1300 euro E adesso Torniamo a Pesaro Dove si amplia Al personale Dei servizi educativi L'operazione Scuole sicure Promossa dal comune Di Pesaro E in corso Negli istituti superiori Mercoledì 3 febbraio Dalle 16 alle 17.30 La palestra Del Bramante Genga Ospiterà Lo screening Per le cure Al covid-19 Per educatrici Insegnanti Ausiliari E cuochi 345 Le persone interessate Tra dipendenti comunali E lavoratori Delle cooperativi Di 13 nidi E altrettante Scuole dell'infanzia Che potranno Sottoporsi Al test rapido Gratuito Su base Volontaria Come avete sentito Dai titoli Quest'anno Non ci sarà La consueta Benedizione Durante il periodo Di quaresima In vista Della Pasqua Quelle che Solitamente Si fanno Casa Per casa E le Marche Le diocesi Marchigiane Si stanno preparando Con delle linee guida Da adottare Filippo Pucci Con l'avvicinarsi Del periodo pasquale È da sempre tradizione Che il parroco Del proprio quartiere Venga a visitare Le famiglie Benedicendo Le abitazioni E chi ci vive Quotidianamente Quest'anno La diocesi Di Fano Fossombrone Cagli Pergola Nell'ottica Dello scorso anno Ha deciso Che ogni parroco Dovrà fare Anche questa volta Diversamente Pur celebrando Il tempo di quaresima Che nel 2020 È mancato Per colpa Del lockdown Non possiamo Andare Per mettere a rischio E la vita Delle persone Che incontriamo E poi farci Noi stessi Eventualmente Contagiatori Di altre persone Quindi La visita Casa per casa Non sarà possibile Al vaglio Della diocesi Ci sono diverse ipotesi Per poter rispettare Questo momento Sentito dai fedeli E dalle famiglie Che non si perda L'incontro Con la famiglia Con le persone Nelle relazioni Che questa pandemia Purtroppo Sta offendendo Forse è il male grande Di non poterci abbracciare E insieme Sostenerci Allora Pensare alternative Certamente La chiesa Può ospitarci tutti Quindi potrebbero esserci Durante la quaresima Delle celebrazioni In ricordo del battesimo Con la benedizione Dell'acqua benedetta E coloro che vengono Familiari Persone Prendono L'acqua benedetta E seguendo uno schema Come è possibile fare Benedicono la loro famiglia Altre volte Si può anche pensare Nel momento In cui ci siano anziani O Famiglie nuove Per esempio Anche a un patto Di responsabilità Tra la singola famiglia E il sacerdote Però Credo che siano poche Le situazioni Che eventualmente Possono Essere ovviati In questo modo Credo che non dobbiamo Perdere di vista Quest'occasione Che abbiamo Per essere vicini Alle famiglie E questo io credo Che dobbiamo Aprirci un po' Alla creatività Di ogni parrocchia E questo Veramente Le nostre comunità Si stanno radunando Anche le parrocchie Perché poi ogni parroco Possa in base Al territorio Che visita Poter offrire I parrocchiani Delle precise indicazioni Confermate tutte le celebrazioni Nel tempo di quaresima Pur rispettando Per ogni parrocchia Le dovute distanze E accorgimenti Per contrastare il virus Le celebrazioni Ci saranno Come del resto Alcune volte Io leggo sui giornali Che non si possono fare I matrimoni Che non si possono fare I funerali No La chiesa è sicura Perché come dice Papa Francesco Solo insieme Riusciremo a sorpassare Questo momento Quindi Guai a noi Se ci ritiriamo Nel privato Per paura Quindi con le dovute Attenzioni Non dimentichiamo Che la chiesa È luogo sano In cui si può pregare Ci si può incontrare Nel dispetto Di quelle che sono Le norme Di tutti Anche altre realtà Delle diocesi E arcidiocesi Del nostro territorio Stanno adottando soluzioni Per poter vivere La quaresima In modo sicuro E che presto Verranno comunicate In via ufficiale E a proposito Di matrimoni Facciamo gli auguri A questa coppia Che sta insieme Da 55 anni Franco Ambrosini E Mafalda Rondina Che sabato scorso Hanno festeggiato Appunto I 55 anni Di matrimonio E quindi le nozze Di Smeraldo Restate sintonizzati Qui sul canale 17 Di Fano TV Perché il tempo Della pubblicità Le previsioni del tempo Poi Simona Zunghetti Condurrà primo cittadino Il suo ospite Questa sera È il sindaco Di Vallefoglia Palmiro Ucchielli Grazie Per averci seguito L'informazione Torna domani mattina Alle 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie